Appello urgente a tutti i docenti, mi raccomando, il comitato di valutazione è formato, voi sapete, con la legge 107, da due docenti eletti dal collegio di docenti, un docente nominato da Consiglio Istituto, due genitori nella scuola del primo ciclo, un genitore, uno studente nella scuola del secondo ciclo, più il dirigente e più un esterno scelto dall'USR. Sui due docenti eletti dal collegio di docenti, bisogna stare molto attenti, i dirigenti vogliono subito andare a votazione per probabilmente eleggere i loro amici oppure le persone che sono più affidabili dal loro punto di vista. Noi abbiamo deciso nell'Assemblea nazionale di dare indicazione a tutti i colleghi, trovate sui siti della Gilda le mozioni da presentare in collegio docenti, abbiamo scelto di invitare i colleghi a fare dei criteri per le candidature, cioè chi si vuole candidare deve dimostrare di volerlo fare, con che criteri, con quali caratteristiche e con che progetto. Dopo aver fatto le candidature si possono andare, ma noi vogliamo andare solamente in novembre, cioè dopo che c'è stata l'elezione degli organi collegiali, cioè del Consiglio Istituto nuova, alla votazione per i membri del comitato di valutazione, che deve esprimere i criteri sui quali il dirigente dopo dovrà dare il bonus, i famosi soldi che vengono alle scuole e vorremmo che questi criteri fossero i più oggettivi e stringenti possibili per evitare che il dirigente abbia la massima discrezionalità. Vorrei invitare perciò tutti i colleghi a guardare e a seguire le indicazioni dei siti, non sono difficili, l'importante è alzare la mano e farle passare in collegio docenti. Per vedere e ascoltare il mondo della scuola basta un clic su iscriviti.